Il fatto quotidiano oggi che esprime comunque una linea solitamente nel Movimento 5 Stelle la esprime chiaramente anche con questa prima pagina, ma un ministero vale il sì alla mucchiata si chiede il giornale diretto da Marco Travaglio, ricorda appunto il vero quesito oggi gli iscritti del Movimento 5 Stelle votano su Rousseau, sottolineando il vero quesito perché c'è la polemica anche su come viene scritto il quesito che mettendola lì sotto il nome di Ministero della Transizione Ecologica sembra che con quel sì poi dà il sì a tutto il resto e quindi in qualche maniera si sottolinea ancora una volta state dando attenzione perché date il sì alla mucchiata. Eh ma guardi sia lei che Federico Fubbini avete descritto le cose come stanno dopodiché il Dipartimento della Transizione esiste ma non è un dipartimento così un ufficetto peraltro è diretto anche da un signore che si chiama Grillo, questo come dire per la ironia della sorte ma è anche articolato in quattro direzioni generali che costituiscono un perno centrale del Ministero dell'Ambiente quindi vorrei gli dare adesso il cappello di Ministero per carità vedremo come si farà per creare un Ministero non è esattamente come fare una passeggiata nel centro di una città significa spostare personale, dare competenze, sottolineare competenze quello che a noi interessa adesso è dare risposte sulle emergenze del Paese con tutto il rispetto della transizione ecologica c'è un problema di transizione vaccinale c'è un problema di dare immediatamente risposte sui vaccini c'è in studio un esponente di un sindacato che vive sulla sapelle quotidianamente il dramma di centinaia di migliaia di lavoratori che hanno bisogno di una transizione professionale per sapere se possono continuare a fare ciò per cui sono stati formati o devono andare in una direzione diversa allora questo governo non nasce per rifare l'Italia questo governo nasce perché in un momento in cui il Parlamento non è stato capace di esprimere una maggioranza politica l'emergenza impone di mettersi insieme il fatto quotidiano dice ammucchiata dal mio punto di vista che ho idee molte volte quasi sempre opposte all'onorevole Begin corrisponde invece a un dovere di responsabilità ma non mi metto adesso a discutere sulla flat tax o su quello che sono il DNA del mio programma politico dico mi metto a disposizione del Paese anche facendo un accordo nel nome di Mario Draghi dell'appello del Presidente della Repubblica con le forze più diverse e antitetiche ma per risolvere alcuni problemi reali ed immediati allora se mi parlate di vaccini, di lavoro, di emergenze economiche e sociali io ci sono e noi ci siamo con il nostro portato di tipo storico, culturale, immediato con i nostri progetti e li discutiamo insieme ma non è il momento di immaginare un archetipo un architrave istituzionale è che guarda chissà dove va l'Italia ci sono quei fondi di cui avete fatto riferimento il 57% del 37% dei 209 miliardi deve essere investito in sostenibilità ambientale intendiamoci sostenibilità ambientale è tutto quello ad esempio che ti fa creare le terze e le quarte corsie in autostrada perché sottrai traffico e 15 CO2 e sostieni ambientalmente la tua nazione per me quello significa una roba centrale perché se investi e metti un euro in infrastrutture il moltiplicatore è pari a 3 o 4 euro rispetto allo sviluppo del paese significa creare posti di lavoro dare risposte alla CGL a tutti i sindacati che giustamente implorano di sbrigarsi e di dare ossigeno al paese per me lo dai con investimenti sostenibili ambientalmente sì ma che non sono nemici del progresso le terze e le quarte corsie come dico così una cosa per farmi capire il ponte sullo stretto che cosa ne è se non un progetto di sostenibilità ambientale è quello perché unendo due lembi di terra hai un grandissimo investimento dal punto di vista ambientale perché sottrai milioni di tonnellate di CO2 dopodiché apri anche finalmente un corridoio mediterraneo di logistica che da Rotterdam fa spostare le merci magari nella Sicilia, nel Mediterraneo, nella Calabria e nel Sud e obbedisce a una delle missioni fondamentali del recovery che è quella di colmare il gap tra Nord e Sud e viceversa non ci avrebbero dato 209 miliardi ma ce ne avrebbero dati molto meno bene, tutto ciò per dire che ci sto ai dibattiti che anche stamattina facciamo ma ci sto a parlare di cose reali, concrete che dobbiamo, non possiamo, dobbiamo fare domani mattina quando tutte le riserve saranno sciolte e finalmente esauriti le liturgie e su questo non intervengo perché ripeto ciò che avete detto mi trovo totalmente d'accordo dei partiti, il quesito, come è fatto, come è fatto a me interessa poter uscire da qua fuori, da casa mia stamattina e non avere più gli occhi per terra per non avere il coraggio di guardare qualcuno che mi implora di dargli risposte perché aspetta 576 decreti attuativi non fatti dai precedenti governi che avevano dato i bonus che non sono mai arrivati a me interessa dire a chi ha i bar, i ristoranti che possono riaprire in sicurezza e dare a persone anziane di 80 anni in su certezze sul fatto che non devono uscire matti per prenotare il vaccino su un telefonino che non sanno neanche usare ma dovremmo andarle a prendere a casa e portarli serenamente nei 40.000 centri che dobbiamo attivare a cominciare dalle farmacie tutti i centri dove si può vaccinare per dare quelle risposte noi siamo al governo per far questo non per piandare i paletti ma voi vi ricordate ai tempi del governo giallo-verde e ho concluso c'erano delle scene imbarazzanti quando si approvava una legge che aveva la bandiera dei 5 Stelle nei banchi del governo si presentavano solo i ministri dei 5 Stelle quando si approvava una legge della Lega si presentavano solo i ministri della Lega ecco, io vorrei mettere da parte politicamente per fortuna l'abbiamo già messa da parte quella stagione e vorrei che in questo momento sui provvedimenti che riguardano vaccini, emergenze economiche e sociali ci si trovasse tutti insieme nel dire l'abbiamo fatto per il bene di questo Paese avendo la maturità e la responsabilità di mettere da parte tutti i nostri totem ideologici e anche un po' i personali